Si è tenuto presso l'auditorium del Centro Pastorale Diocesano di Sulmona un interessante incontro sul tema iperprotezione ed iperstimolazione genitoriale, segni e sintomi del contemporaneo. L'evento, organizzato dall'Ufficio Diocesano di tutela ai minori e persone vulnerabili, ha visto come relatore il dottor Iari Ferrone, psicologo e psicoterapeuta, esperto di dinamiche familiari e di sviluppo infantile. Il dottor Ferrone ha illustrato le caratteristiche e le conseguenze di uno stile genitoriale sempre più diffuso nella società attuale, quello dell'iperprotezione e dell'iperstimolazione. Se ci troviamo di fronte a famiglie che provano difficoltà a lasciare andare i propri figli, a non considerarli come proprietà privata, ma a far sì che loro trovino una strada che sia la loro strada, quali potrebbero essere i punti della società e che cosa ci induce la società rispetto a questo, quali sono gli ostacoli che ci pone. Oggi siamo abbastanza nel caos, rispetto agli anni 90 e anche agli anni 2000, la nostra vita è basata sulla fretta, sulla frettolosità, sull'isteria di massa, sul consumismo. È un atteggiamento bulimico quello che ci costringe a vivere in un modo che a noi adulti sfugge, perché in fondo, senza renderci conto, cerchiamo di stare sempre dietro i ritmi che la società ci richiede. Ignorando il fatto che i ritmi che la società ci richiede e che noi cerchiamo di perseguire, anche accumulando un certo livello di stanchezza, potrebbero non essere ad esempio i ritmi dei nostri figli e delle nostre figlie. Non è facile rispondere alla domanda del perché mettiamo al mondo dei figli. Se lo facciamo per desiderio di procreare, oppure per bisogno di avere qualcuno a fianco, non lo sappiamo se lo facciamo per desiderare qualcosa per loro, oppure per desiderare qualcosa per noi. C'è qualcosa di molto sottile, che non sempre ci aiuta a renderci consapevoli di quello che facciamo, del perché lo facciamo e delle motivazioni che sono la base di quello che facciamo. Non è facile integrare la nostra parte razionale con tutto ciò che ha a che fare con il mondo dei vissuti, dei sentimenti, delle emozioni. Non è facile essere consapevoli di noi stessi. Figuriamoci se è facile essere consapevoli di qualcun altro. Grazie a tutti.